Le operazioni di recupero del relitto Gela 2, una nave greca del V secolo a.C. scoperta nel 1995 a Gela, sono in corso. L'imbarcazione è lunga 15 metri e larga 5, si trova a 6 metri di profondità nei fondali sabbiosi di Contra Dabulala. La soprintendenza del mare della regione siciliana, con un finanziamento di oltre 900.000 euro, ha avviato lo scavo subacqueo a luglio 2024. I lavori di recupero dureranno 270 giorni, i legni della nave saranno restaurati nel parco archeologico di Gela e poi conservati nel museo delle navi di Gela.